Andrea, quanto era importante questo successo? Importantissimo, soprattutto dopo la serie di risultati che non riuscivamo a fare. È la prima vittoria del 2019, per ricordarlo, ed era troppo importante anche in chiave classifica e salvezza soprattutto per adesso. Ecco, perché poi di salvezza si parla, ma si guarda anche oltre, raggiungendo quota 40, che se poi di fatto la quota salvezza si è alzata, ci si immagina qualcosa di più qui a Fiborenzi. Sì, bisogna continuare su questo passo. La partita di domenica ha dimostrato che siamo un gruppo forte, che ha fame e che sa soffrire soprattutto, e questa è una cosa importantissima per questo campionato. Bisogna continuare così e basta per adesso. E ci sarà ancora tanto da soffrire perché mancano sette partite, sette finali. La prima, la prossima, contro la Viterbestia, questa squadra che deve recuperare ancora tante gare e che però insomma sembra andare forte. Sì, è una grande squadra. Soprattutto ci ricordiamo l'andata, venivano soprattutto da tante partite di fila. Noi siamo stati bravi, però loro sono una squadra molto forte che però noi dobbiamo affrontare a testa alta perché abbiamo dimostrato di non aver paura di nessuno e come hai detto tu sono sette finali. Ogni finale è una partita a sé. Grazie.